Non torniamo come prima, non è retorica ma è un vero e proprio appello che voglio farvi firmando il manifesto della LAV, affinché questo terribile periodo non venga dimenticato ma serva per il futuro. Ricordate tutti come è iniziato il covid, nei wet market in Asia, questi mercati pazzeschi che ho visitato in cui migliaia di animali vengono trafficati, contrabandati, consumati, sono tutti animali esotici, animali selvatici che poi magari vengono esportati illegamente e venduti in tutti i paesi del mondo. Beh questa situazione deve finire, anche noi possiamo farlo la nostra parte in Europa, in Italia, in tutto il mondo, perché questi animali non devono essere trafficati, non devono finire nelle case delle persone, finire negli zoo, essere usati per le pellicce o ancora essere usati nei circhi, questi animali devono rimanere nel loro habitat e allora ognuno di noi può fare qualcosa per evitare che questi animali vengano trafficati. Mi raccomando, io ho firmato il manifesto della LAV, non torniamo come prima, impegniamoci a farlo.